La rassegna stampa è stata offerta da I Sapori del Vallo, l'arte di fare la pasta. www.isaporidelvallo.it Buongiorno e bentrovati, eccoci alla nostra rassegna stampa, partiamo con il mattino. In apertura PNRR le opere non slittano, il ministro Giovannini dopo la denuncia sugli appalti fermi dalla Tirrenica alla Salerno-Reggio Calabria verifiche a tappeto per evitare ritardi nelle opere e più aiuti agli enti locali per formare il personale. L'ex premier Conte si candida a Roma nel collegio lasciato da Gualtieri. Andiamo su centro pagina, Ucraina-Russia, venti di guerra, migranti e gas, le armi di Putin, le vere ragioni della crisi internazionale. Sempre su centro pagina, Super Green Pass, via i controlli ma sui bus niente multe. Da oggi certificato rafforzato per 6 milioni ristoranti vietati, le aziende di trasporti non spetta a noi elevare sanzioni. E intanto al Santo Bono, Napoli, così ho salvato il bimbo di 11 anni intubato da un mese. Lasciamo la prima pagina. Rimaniamo sul mattino, l'abbiamo visto dalla prima pagina, NoVax, finita la ricreazione, tutti i divieti del Super Pass, via il certificato rafforzato per i non vaccinati, diventano inaccessibili tutte le attività ricreative, obbligatorio per teatri ed eventi sportivi e se si va in zona arancione lo devono chiedere anche i bar. I 40 giorni del Super Green Pass. Il nuovo strumento diventa operativo da oggi e lascerà fuori da ristoranti, teatri, cinema, stadi, palasport, oltre 6 milioni di italiani che hanno rifiutato di vaccinarsi. Bisognerà capire se sarà sufficiente un periodo così breve, con regole più rigorose, per raffreddare la curva dei contagi, evitare che l'Italia affronti ondate di ricoveri simili a quelle di altri paesi, convincere più persone a proteggersi anche in vista della propagazione della variante Omicron in Europa. Il Super Green Pass sarà in vigore da oggi al 15 gennaio, salvo proroghe, e ieri il Governo ha diffuso una serie di tabelle per spiegare cosa si può e non si può fare a seconda dei colori di ogni regione. Andiamo avanti, sempre sul mattino e sempre su questo argomento, controlli sui bus, rischio flop. Spunta la falla delle sanzioni, le aziende di trasporto per fare le multe serve un vigile, il nostro personale non può, il Viminale invita gli agenti a evitare le verifiche quando c'è affollamento. Sbarca su bus e metro il Green Pass, quello base, ma le aziende del trasporto pubblico locale arrivano all'appuntamento scariche di personale per verificare a bordo il possesso del certificato verde. Soltanto a Roma, ATAC, la più grande utility italiana del settore, con oltre 11.000 dipendenti, appena 250 controllori per 1.500 bus, 6 linee di tram e altre 3 di metropolitane. Ma le proporzioni non sono diverse in altre città italiane. Le società municipali alle prese con le carenze di organico e nessuna proroga dal governo, il Green Pass sarà richiesto anche ai ragazzi tra i 12 e i 18 anni. Rimaniamo su questa pagina. Stato d'emergenza stoppa le proroghe, Draghi vuole tornare alle leggi ordinari. Scade a fine mese tecnici al lavoro per confermare l'incarico di figliolo e le regole anti-Covid. Tenere in piedi la struttura e le norme per il contrasto del Covid senza più prorogare lo stato d'emergenza e l'ipotesi allo studio del governo in vista della decisione che Mario Draghi dovrà prendere intorno al 20 dicembre. A fine anno scade infatti lo stato d'emergenza e l'esecutivo è di fronte ad un bivio. Varare un decreto per una nuova proroga a due anni dall'inizio della pandemia o scegliere la via della legislazione ordinaria disciplinando con norme ad hoc la struttura di mobilitazione sanitaria e tutte le misure legate allo stato di emergenza. Andiamo avanti. Rimaniamo ancora sul mattino con i fatti dall'estero. L'Europa rischia una guerra in Ucraina. Forse questo è il fronte più caldo. Mosca spinge al confine ucraino. Putin utilizza le armi del gas e dei profughi per la crisi in Ucraina. L'obiettivo è evitare che il paese confinante entri nella Nato. In Bielorussia la crisi dei migranti provocata da Lukashenko può portare allo scontro. In Bosnia fronte rovente acceso dalle nuove maesopite spinte separatiste. La strategia di Biden punta ad allontanare la Russia dalla Cina ma i rapporti tra Mosca e Pechino restano buoni. Se la diplomazia non trova una soluzione si rischia una corsa a installare missili come negli anni 80. Il vero obiettivo americano nella presente crisi per l'Ucraina è di carattere più generale, ossia strategico internazionale. Joe Biden vuole portare la Russia lontana dalla Cina. Secondo gli specialisti USA, Pechino potrebbe mettere in seria difficoltà Washington solo unendo le forze con quelle di Mosca. Non è un caso che il tanto atteso summit virtuale tra Putin e Biden è previsto per domani, poche ore dopo, la conclusione della visita del presidente russo in India. Per la Casa Bianca lo scenario Asia-Pacifico sarà in futuro centrale nella lotta per la supremazia globale. e con questo lasciamo il mattino, ci spostiamo sulla città. In apertura si parla di sanità, l'Odissea per una visita costretta a curarmi a Roma ha il pacemaker e per la risonanza serve il cardiologo. Solo rinvii così rischio di morire. Centro pagina, i dati del Covid, il picco del virus nel Salernitano in sette giorni, 1190 casi. Vaccini e disagi, lunghe file e caos per la terza dose e le iniezioni di sera. Di lato la cronaca, anno c'era inferiore, pistolettate sul corso dopo la lite, un arresto. A Pagani, appalti comunali affidati all'elite, scatta l'inchiesta. A Ponte Cagnano, un 15enne trovato senza vita, si cerca la verità. Poi il futuro della Salernitana, Trastin, Figgi, C, semaforo verde per la cessione. La sfida a Firenze, Colantuono blindato nonostante Castori. La Serie C, una superpaganese Juve-Sabbia abbattuta. Di taglio basso, silos e scontro sulla rotatoria, niente sconti ai privati sui lavori, il Tar dà ragione al Comune. Nessuno sconto per i lavori di realizzazione della rotatoria nei pressi dell'ex consorzio agrario a Forni. I giudici del Tar respingono il ricorso presentato dalla società che vuole trasformare i silos della zona industriale di Salerno in una area commerciale. L'intervento non è a servizio delle aree residenziali, ma solo del nascente retail park. Lasciamo la città. Il quotidiano del sud, in apertura la Salernitana, l'ora più incerta della storia granata, desolatamente ultimi con il futuro del club appeso ad un filo. Oggi sapremo se ci sono proposte serie d'acquisto. Di lato, Comune di Salerno, Cantillo, Grillini, molto dinamici, la Barone si adegui. La Camera di Commercio, prete in trincee, abbiamo le carte in ordine. Poi la pandemia, contagi e ricoveri, curve in crescita, stretta sotto le luci. E su centro pagina, costiera friabile, nuovo crollo sulla Malfitana, caos a Maiori. Annocele inferiore, lite tra vicini, pistolettate sul corso, un ferito lieve. A battipaglia, un masterplan per ridisegnare la litoranea. Rimaniamo sul quotidiano del sud. Colle, politica agitata, Letta nega incontri e prende tempo. Manovre al centro, dialogo Toti-Renzi. La sfida del Quirinale agita la politica. Il segretario del PD Enrico Letta continua a ribadire di parlarne insieme a gennaio e smentisce retroscena secondo cui avrebbe incontrato la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, o che dice avrei scelto Draghi. Non c'è nulla di vero, sbotta. Dopo la legge di bilancio a gennaio affronteremo insieme la scelta. Tuita il leader del Nazareno. E dalla corsa al colle si tira fuori ormai definitivamente l'ex presidente del Consiglio, Romano Prodi, che è ospite di mezz'ora in più su Rai 3, sottolinea Io c'ero prima fuori corsa, la mia maestra elementare mi ha insegnato a contare. Non è cosa si dice? Ho detto le ragioni. L'età sto benissimo così e l'ultima è quella del realismo politico. E lasciamo il quotidiano del sud. Diamo un'occhiata a cronache. L'apertura sospesi dal servizio 26 medici del Ruggi ci sono i Novax, il presidente d'Angelo. Gli atti amministrativi su cui ha lavorato l'ordine sono 54, anche avvertimenti o revoche. Sotto la testata centro storico via dei mercanti al buio saltano i pannelli di luci d'artista. L'intervista a Caterina Greco si preferisce ancora acquistare giocattoli nei negozi e non online. Centropagina. Per Sky l'offerta irrevocabile è di una cordata romana. Oggi si attende il comunicato ufficiale, si gioca sul filo del rasoio. Caressa solleva il problema salernitana e dopo la mezzanotte c'è l'annuncio. Di taglio basso, Juve Stabia ok, la Paganese allontana la crisi, tre gol nel derby. Poi la replica della Camera di Commercio dalla CLAI, una campagna di stampa, fiducia nei giudici. A Nocera, avvocati all'attacco, il presidente Montella, logistica e personale, i guai del tribunale. E termina qui la prima parte della nostra rassegna stampa. Diamo la linea alla regia, ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità. Eccoci tornati in studio, riprendiamo la rassegna stampa, diamo un'occhiata alla prima pagina del mattino di Salerno. Pass sui bus per 15.000 studenti. Questa è l'apertura da oggi l'obbligo. I pentolari protestano, discriminati e non tutelati. Siamo a rischio. Primo stress test, i presidi fiduciosi, poche criticità, ma i sindacati contestano. Centropagina. L'ambiente. Macigni sulla Malfitana ritorna l'incubo Frane. Maiori e senso alternato. La cronaca su centropagina. La tragedia di Ponte Cagnano muore a 15 anni, una corda al collo nel campo Rom. Il giovane è trovato impiccato in un casolare ipotesi suicidio, ma si indaga a tutto campo. Di lato la pandemia. Vaccinazioni ai bimbi. Noi pediatri in prima linea hanno un ruolo fondamentale nella campagna di vaccinazione anti-Covid per i bambini tra i 5 e gli 11 anni. La prima linea in questa fase della lotta al virus spetta i pediatri in virtù del loro rapporto diretto con i piccoli e i loro familiari. Tra qualche giorno saranno impegnati direttamente nella somministrazione delle dosi. Ancora pandemia. In fila per la dose sotto la pioggia. I contagi schizzano a 1113 in sette giorni. Questa era la prima pagina del mattino di Salerno. Andiamo a vedere. In primo piano la cronaca amalfitana. Piovono massi. Ritorna l'incubo in costiera. Maiori due macigni. Giù dalla montagna. Sulla strada ora c'è il senso unico alternato. Ci sono già lavori in corso sulla ringhiera. Oggi il summit per valutare altri interventi. Per fortuna è accaduto di notte. l'SOS è lanciato dai pochi automobilisti in una zona martoriata già due anni fa. Ancora massi sulle strade della costiera amalfitana. È accaduto nella notte tra sabato e domenica quando intorno a luna si è staccata una frana di notevoli dimensioni esattamente nel curvone alle spalle dell'hotel Splendid. Intorno all'ingresso del centro urbano di Maiori l'ennesimo distacco di materiale lapideo è stato causato dalle insistenti piogge di questi giorni che hanno imperversato sulla costiera. Dopo la tregua di venerdì mattina gli enormi blocchi di pietra, almeno due, si sono frantumati nell'impatto con l'asfalto finendo per ostruire quasi del tutto la sede stradale dove da ieri mattina dopo le verifiche del caso si procede a sensi di marcia alternati. Scongiurato. Uno stop alla circolazione stradale che avrebbe generato non pochi disagi per ripendolare gli studenti ma anche frenato i seppur pochi flussi turistici della domenica. Nel golfo di Policastro, bussento stradipato al via la messa in sicurezza, sono iniziati lavori di somma urgenza sul bussento a tutela dell'incolumità pubblica e contro nuove esondazioni. Lasciamo con questo il mattino, ci spostiamo su Cronache, in primo piano su Cronache Medici, 26 i sospesi al Ruggi. Non sempre si può parlare di Novaks. A fare il punto della situazione, il presidente dell'Ordine dei Medici, Giovanni D'Angelo, molti vaccinati fuori città. Sono 54 atti amministrativi su cui l'Asla ha lavorato, ci sono anche i nuovi vaccinati. Intanto calca davanti ai centri vaccinali, martedì al centro sociale, open night fino a luna. Andiamo avanti sempre su Cronache, il maltempo per l'agricoltura, danni gravi colpita la vendemmia e le olive. Quanto emerge da un'analisi della Coldiretti, la provincia di Salerno, tra quelle più a rischio per il dissesto idrogeologico. Le imprese agricole devono interpretare le novità segnalate dalla climatologia. Andiamo a Eboli, la Naimoli proposta coordinatrice cittadino nell'ottica del ricambio generazionale, visto il lavoro svolto dalla stessa in seno al Consiglio Comunale. Poi il caso canile comprensoriale del Vallo di Viano verso l'apertura di taglio basso su questa pagina, serata di solidarietà e cultura a potenza con la banca Montepruno presso il Teatro Stabile. E lasciamo con questo Cronache, ci spostiamo sul quotidiano del sud, andiamo ad Agropoli. Elezioni di primavera, Coppola tenta il bis, Idem e Alfieri sciolgono la riserva e indicano il primo cittadino uscente. Cilento, il Bisconti, unico istituto per quattro comuni, una scuola futuristica che punta sui suoi studenti e sulle loro infinite potenzialità. Un istituto comprensivo che abbraccia i comuni di Ogliastro Cilento, Prignano, Cilento, Rutino e Cicerale. Si tratta dell'Istituto Pietro Bisconti con sede a Ogliastro e diretto dall'illuminato professore Vincenzo Rendina. Andiamo con la cronaca ad Agropoli, giallo sulla morte di un 56enne che è stato trovato morto ieri mattina in una struttura ricettiva di sua proprietà a Moio. E a San Cipriano Picentino nasce la prima scuola per mediatori linguistici intesa tra il Comune e Teseo avrà valore di laurea. Andiamo avanti sempre sul quotidiano del Sud. Covid aumentano, positivi e ricoveri stretta sotto le luci. Locale chiuso in Campania e il contagio sale a 4,23%, registrato un solo decesso. 193 nuovi casi in tutta la provincia. Da oggi in vigore il Super Green Pass. I contagi si sono registrati a San Severino, Agropoli, Pisciotta, Celle di Bulgaria. E termina qui la nostra rassegna stampa. Grazie per essere stati con noi. Vi auguro buona giornata.